Hai mai visto un e-commerce con un trucco? Bene, ti svelerò adesso come fa un e-commerce che fa migliaia di visualizzazioni al giorno in realtà a vendere in un altro modo. C'è il trucco quindi. Io sono Nicolo Manica, benvenuto sul mio canale. Come sai io ho creato realtà di successo nel mondo e-commerce e nel mondo delle agenzie marketing e sono qui oggi per aiutarti e spiegarti esattamente come si fa a costruire un e-commerce di successo attraverso chi il successo lo fa già. Andiamo a vedere esattamente cos'è questo trucco. Eccoci allora, qual è l'e-commerce col trucco? Bene, l'e-commerce col trucco si chiama Calai Shop. Perché ha il trucco? Ve lo svelo a brevissimo. Prima facciamo una breve overview del sito. Come potete vedere a primo impatto sicuramente ha un numero verde che è la cosa che mi colpisce di più perché offre subito un senso di fiducia, un senso di professionalità a questo sito. Inoltre offre la possibilità di chattare per cui un cliente che o sta per decidere di ordinare su questa piattaforma, su questo sito, oppure ha già ordinato, chiaramente si sentirà protetto, si sentirà di avere una fiducia particolare in questo sito proprio perché ha a disposizione tanti modi per contattare chi gli deve spedire il prodotto. Ha poche categorie ma ben organizzate, come potete vedere ha una bella immagine di copertina che tra l'altro dà anche quella che è la missione del sito, ovvero tu vai su Calai Shop per scoprire il meglio visto in tv. Quindi ci sta facendo sapere che ci saranno prodotti visti probabilmente in televisione se non in Italia, negli Stati Uniti. Per quel che riguarda i prodotti invece offre prodotti molto variegati a partire da occhiali a prodotti per la cucina, ovviamente quello che è chiaro che sono tutti i prodotti in dropshipping, sono tutti i prodotti che sono facilmente reperibili su piattaforme come quella di Udropi, ovvero piattaforme che ti danno la possibilità di vendere il prodotto allo scoperto. Abbiamo una carrellata di prodotti e poi passiamo alla sezione clienti soddisfatti, per cui in questa sezione abbiamo tutte le foto di clienti che hanno mandato il loro prodotto, la foto del loro prodotto o hanno taggato lo shop. Inoltre ci offre quattro badge qui che danno sicurezza all'utente sia relativamente ai pagamenti, sia quello che è un supporto, sia la spedizione che ovviamente la garantisce in due o quattro giorni o addirittura soddisfatti o rimborsati. In più ti fa lasciare l'email per aderire e avere uno sconto immediato del 10%, per cui c'è uno sconto immediato e poi ci dà anche quelle che sono le recensioni generali dello store, più ovviamente qualche badge alla fine o la possibilità di ordinare su Whatsapp. Fino ad ora ok il sito è ben strutturato, ma dov'è il trucco? Non lo sappiamo. Andando però su... Andiamo prima a vedere i prodotti, quindi come potete vedere il prodotto è ben presentato, ci dà la possibilità, intanto vediamo come performa questo sito da mobile, direi che non è male, ci lascia il numero verde, c'è la chat che rimane in fondo e la prima cosa che ci capita sott'occhio è che ogni prodotto ha un video, quindi ci presenta il video, come vedete, per cui non dovete neanche leggere la descrizione, basterà guardare il video, un video in italiano con il logo poi dello store. Come possiamo vedere è molto facile, anche se non ha le recensioni, ci dà la possibilità di acquistare e offre subito un upsell per incrementare il valore del carrello, come potete vedere. Quindi in poco tempo riesco attraverso quello che è un prodotto aggiungibile ad aumentare il valore del cliente, cosa che poi mi porta il carrello medio a essere più alto e mi offre la possibilità, in questo caso, di poter pagare o ritiro in sede o ritiro con corriere convenzionato, quindi in questo caso andiamo a fare un pagamento alla consegna oppure possiamo pagare con la carta di credito e in ogni modo ci offre la possibilità di avere questo prodotto in 2-4 giorni. Fino a qui tutto bene, non mi piace tanto questo carrello, fatto così è tutto troppo confuso, quindi sicuramente il carrello è migliorabile, è troppo confusionario, io non capisco se devo partire prima a scrivere qui oppure devo guardare qui, non capisco bene perché c'è il ritiro in sede, se devo pagare la consegna, paypal o la carta, insomma un po' confusionario e anche questa parte qui con il codice escondo, insomma non si capisce molto bene, a parere mia. Ora, dove sta però il trucco? Bene, il trucco molto semplicemente lo abbiamo e lo scopriamo soltanto quando ci colleghiamo sulla loro pagina Facebook. Pagina Facebook come potete vedere conta 17.000 like, è fatta molto bene, pubblicano con regolarità, pubblicano anche i codici sconti ma se noi andiamo a vedere quelle che sono le ads, come potete vedere ci darà uno shock, con qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Andando su Italia abbiamo delle ads bellissime che si riferiscono a un singolo prodotto, solo che andando sulla ad vera e propria e cliccando nel nostro link e ci aspettiamo ad arrivare su Calai Shop invece no. Abbiamo una landing page, come vedete è una landing page che si è sì su Calai Shop, tuttavia non ha nulla a che vedere neppure il logo con Calai Shop, per cui non sta vendendo attraverso il suo e-commerce come facciata ma attraverso una landing page creata ad hoc. E quindi perché utilizzare un e-commerce in questo caso? Perché l'e-commerce ci servirà sia da spina d'orsale, perché poi quando qua andrò a acquistare utilizzerà l'e-commerce come gestionale, quindi avrò tutte le statistiche sul nostro sito, sia perché nel caso in cui io vado poi a dire che è stato venduto da Calai, quando uno clicca su Calai troverà una consistenza a livello sito. Questa come possiamo vedere è una landing page, per cui una pagina di vendita, e perché usare una pagina di vendita? Perché ci dà la possibilità di creare un'intera pagina che sponsorizza interamente quello che è il prodotto, come vedete ci dice le caratteristiche, ci dice le qualità, ci dice le recensioni, ci dice tutto quello che include, ci dà l'offerta e il cliente non si focalizza su altro. Come vedete addirittura non ci fa uscire neanche dalla pagina per ordinare, ma c'è semplicemente qui il carrello, che tra l'altro immagino sia fatto per il mobile, perché come possiamo vedere qua si vede bene, invece da desktop un po' peggio. Anche qui rimane con i suoi quattro badge di garanzia che offriva, per cui un'idea molto intelligente utilizzare una landing per ognuno dei suoi prodotti, perché se poi noi andiamo a vedere quelle che sono gli altri prodotti differenti, tutti i prodotti utilizzano lo stesso metodo. Questo è un prodotto ovviamente differente e anche questo utilizza una landing ad hoc. Come potete vedere le landing poi sono simili, utilizzano tutte uno schema perché riporta il logo sopra, le caratteristiche recensioni e le domande più gettonate e la possibilità di acquistare. Come vedete le landing sono tutte simili, in questo caso ora è più facile da usare su desktop. Cosa fanno quindi? Utilizzano un sistema landing supportato da quello che poi è un gestionale a livello e-commerce. Vediamo se questa strategia funziona, direi proprio di sì, dato che comunque sia, con ovviamente un grande aumento durante il periodo del Black Friday e di Natale, hanno oltre le cento, hanno fatto a gennaio, oltre le centocinquantamila visualizzazioni al mese con visite ben o mali mensili di centotrentacinque mila a livello di media. Con tempo stimato sul sito di due minuti e quaranta, quindi direi il tempo utile per fare un acquisto. Per cui analizziamo insieme quali sono i pro e quali sono i contro di questo e-commerce e soprattutto di questo trucco che usa per fare vendite. Bene, il primo pro che ho analizzato è il numero verde. Perché? Perché offre al cliente una linea diretta di comunicazione e offre la possibilità di essere sempre in contatto col sito dal quale ho comprato e quindi dare tanta fiducia a quel prodotto e soprattutto a quel sito e quindi ricomprare. Infatti il secondo pro che ho analizzato e ho scritto è customer service. Fa numero verde, possibilità di chattare, la newsletter, la capacità di essere sempre aggiornati su facebook, dà a questo sito un grande punto di forza cioè il suo customer service che poi infatti si riflette sulle recensioni molto positive che ha e tutta quella che ha la presenza digitale in fatto di essere ritaggato e ricevere il feedback dei clienti. Quindi questo è importantissimo perché come sappiamo le persone si fidano laddove gli altri si sono fidati. Il terzo pro è la strategia. Questa strategia è di utilizzare la spina dorsale di un sito come gestionale per prendere i pagamenti e per eventualmente fare targeting e utilizzare invece l'ending page lunghe, descrittive e dritte al punto per vendere singoli prodotti così che le persone non si vadano a confondere guardando anche altre cose che potrebbero interessarmi. Quali sono invece i contro? Bene, i contro è la versione desktop abbiamo visto sia le landing sia il sito, sono un po' confusi. Io capisco bene che il mobile ovviamente is on the rise quindi sta crescendo, crescendo, crescendo ma è anche vero che tanti comprano da desktop per cui non ha senso buttare via quelle vendite. L'ultimo contro commesso è il carrello, veramente terribile, troppo confuso, troppe cose insieme, troppe informazioni, molti si perderanno e molti non sapranno dove e come cliccare. Quindi decisamente la strategia segreta di utilizzare l'ending page per fare promozioni paga è una strategia che oggi sta funzionando e se oggi la vuoi utilizzare sul tuo sito ti consiglio di iniziare a costruire le tue landing page ma se non lo sai fare ovviamente ti metto qui sotto il link di targeto perché noi lo possiamo fare per te e di prendere questi prodotti che sono prodotti che vendono da Udrop in modo da poter avere anche tu un tempo di consegna da 2-4 giorni con pagamento alla consegna. Ti lascio dicendo che se ti è piaciuto questo video metti like qui sotto, lasciami un commento di cosa ne pensi, se hai un altro e-commerce che vorresti che io analizzassi lasciamolo come commento altrimenti ci vediamo al prossimo video non dimenticare di seguire il canale. Ciao!